Sì, sto arrivando! Beh, di certo non potrò perdere un'opportunità come questa. Ehi mamma, puoi accompagnarmi tu a scuola oggi? Certo, tesoro. Oh mio Dio, hai visto quel negozio? Ti prego, possiamo entrare? Assolutamente! Guarda quanto è bella quella borsa in vetrina. È bellissima. Costa 500 euro. Pensi di potermela regalare? Ma certo, tesoro, perché no? Avete tutti il permesso dei genitori per la gita? Cavolo, mi sono completamente dimenticata. Però potrei firmare io al posto loro. Ok, per questa volta. Ciao papà, grazie per essermi venuto a prendere. Scusami, me ne sono completamente dimenticato. Sì, no, anche io non ti preoccupare. Comunque, pensi che potremmo ordinare la pizza stasera? No, abbiamo il cibo a casa. No? Come no? Ma puoi dire solo sì. No, solo i tuoi genitori possono. Sì.